regina immacolata celeste madre mia vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi come tua cara figlia nelle tue braccia per chiederti coi sospiri più ardenti in questo mese a te consacrato la grazia più grande che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà mamma santa tu che sei la regina di questo regno ammettimi come figlia tua a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi perciò sovrana regina a te mi affido a ciò che guidi i miei passi nel regno del voler divino e stretta la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicura di non uscire dal regno suo perciò ti prego che mi illumini per farmi comprendere che significa volontà di dio ave o maria piena di grazie il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen la regina del cielo nel regno della divina volontà continua lo stesso argomento la sua vita nel tempio figlia mia carissima com'è dolce il tuo sussurro al mio udito il sentirti dire che vuoi essere chiusa da me nel vivo tempio della divina volontà e che non vuoi altra compagnia se non quella del tuo gesù è la mia a figlia cara tu mi fai sorgere nel mio materno cuore le gioie di vera madre e se ciò mi farei fare io son certa che la figlia mia sarà felice le mie gioie saranno le sue ed avere una figlia felice e la più grande felicità e gloria ad un cuore materno ora ascoltami figlia mia io giunsi nel tempio solo per vivere di volontà divina i miei santi genitori mi consegnarono ai superiori del tempio consacrandomi al signore e mentre ciò fecero io ero vestita a festa si cantarono inni e profezie che riguardavano il futuro messia ed oh come gioiva il mio cuore dopo diedi con coraggio l'addio ai miei cari e santi genitori baciai la loro destra li ringraziai della cura che ebbero della mia infanzia e che con tanto amore e sacrificio mi avevano consacrata al signore la mia presenza pacifica senza piangere coraggiosa infuse il loro tale coraggio che ebbero la forza di lasciarmi e partirsi da me la volontà divina imperava su di me e stendeva il suo regno in tutti questi atti miei o potenza del fiat tu sola potevi darmi l'eroismo che sebbene così piccina ebbi la forza di distaccarmi da coloro che tanto mi amavano e che io vedevo che si sentivano spezzare il cuore nel separarsi da me ora figlia mia ascoltami io mi chiusi nel tempio e lo volle il signore per farmi stendere i miei atti che dovevo fare in esso nel regno della divina volontà per farmi preparare il terreno coi miei atti umani ed il cielo che doveva formarsi sopra questo terreno della divina volontà per tutte le anime consacrate al signore io ero attentissima a tutti i doveri che si usavano di fare in quel luogo santo io ero pacifica con tutti né diedi mai amarezza e disturbo a nessuno mi sottoponevo ai servizi più umili non trovavo difficoltà a nulla né a scopare né a fare i piatti qualunque sacrificio era per me un onore un trionfo ma vuoi sapere il perché io non guardavo nulla tutto per me era volontà di dio sicché il mio campanello che mi chiamava era il fiat io sentivo il suono misterioso del voler divino che mi chiamava nel suono del campanello ed il mio cuore gioiva e correva per andare dove il fiat mi chiamava la mia regola era la divina volontà ed i miei superiori li vedevo come comandanti di un volere sissanto quindi per me il campanello la regola i superiori le mie azioni anche le più umili erano gioie e feste che mi imbandiva il fiat divino il quale stendendosi anche fuori di me mi chiamava a stendere la sua volontà per formare il suo regno nei più piccoli degli atti miei ed io facevo come il mare che nasconde tutto ciò che possiede e non va a vedere altro che acqua così facevo io nascondevo tutto nel mare immenso del fiat divino e non vedevo altro che mari di volontà divina e perciò tutte le cose mi portavano gioie e feste a figlia mia nei miei atti correvi tu e tutte le anime io non sapevo far nulla senza della figlia mia era proprio per i figli miei che io preparavo il regno della divina volontà a se tutte le anime consacrate al signore nei santi facessero scomparire tutto nella divina volontà come sarebbero felici e convertirebbero le comunità in tante famiglie celesti e popolerebbero la terra di tante anime sante ma e me debbo dir loro con dolore di madre quante amarezze disturbi discordie non ci sono mentre la santità non sta nell'ufficio che a loro tocca ma nel compiere la volontà divina in qualunque ufficio che venga loro assegnato essa è la pacera delle anime la forza il sostegno nei sacrifici più duri regina mamma chiudimi nel sacro tempio della volontà di dio ave maria grazia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui jesus santa maria mater dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in ora mortis noster amen